Ciao a tutti sono Bonf777 e benvenuti in questo pack opening speciale di capodanno anche se oggi è il 2 Cioè oggi in realtà è l'1 però voi vedrete questo video il 2 Andremo ad aprire 4 pacchetti da 100.000 crediti, voi direte ma ce ne sono solo 2 No vabbè lo faccio con 2 profili diversi 24 giocatori, 24 orari, iniziamo con il primo Io vi chiedo di mettere mi piace a questo video per avere altri pack opening Se volete altri pack opening iniziamo con il primo Dai dai fammi trovare qualcosa di bello Abbiamo uno schifo di Garai Schifo 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 balotelli Niente male Il primo è andato male abbiamo ancora 300.000 crediti Andiamo con il secondo dai non è tanto difficile migliorare il primo visto che è andato veramente di merda Qui nel secondo abbiamo Pirlo Che schifo ancora Ben 200.000 buttati nel cesso proprio Rams, Rakitic, nada, nada, nada No niente che merda Ok eccoci andiamo con gli ultimi due pacchetti Vabbè gli ultimi sono 4 Dai sono con l'account della route to glory Devo trovare qualcosa sono obbligato Vediamo qui Abbiamo Young in forma Finalmente un in forma l'abbiamo trovato Non so sinceramente quanto valga Vediamo il resto cosa abbiamo Benazia Koch, Barclay, Andanovic, Chesney All'inizio non me ne ero neanche accorto di Young Vabbè meglio così Un in forma l'abbiamo trovato Eh vale sui 27.000-28.000 Non male ok Il primo in forma l'abbiamo trovato Noi ovviamente ne vogliamo trovare un altro Dai 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 Ultimo pacchetto Dai 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 Abbiamo un altro in forma Sanchez Xavi Poi Godin Vila Oscar Dai due in forma In due pacchetti Lui non varrà tanto Però comunque in due in forma Li abbiamo trovati Avrei preferito sinceramente Qualcosa che valesse di più Però non mi lamento E quindi Per questo pack opening è tutto Abbiamo trovato Young E abbiamo trovato Sanchez Della Stoneville Vi ricordo che sulla pagina Facebook C'è un mini contest Diciamo per l'inizio del 2015 Quindi andate a controllare Se volete E se il video ti è piaciuto Metti mi piace Iscriviti al mio canale E commenti Da bomb777 Ciao a tutti